Finalmente intorno a un tavolo per cominciare a mettere nero su bianco, la famiglia Semeraro e Tesoro si sono dati appuntamento per scrivere un capitolo importante della storia del Lecce. A breve potrebbe cominciare l'era Tesoro, gli imprenditori pugliesi, originali del Barese, che hanno messo radice al nord, nel Bergamasco. Hanno già esplorato il mondo del calcio in una precedente esperienza alla propatria, ma ora i Tesoro sembrano decisi a investire al sud. Hanno puntato la loro attenzione su Lecce e il territorio salentino, dove già hanno investito. Tra le parti vi saranno altri contatti, ma il passaggio definitivo sarà sancito a fine campionato. Il costo dell'operazione dipenderà dal risultato sportivo ottenuto dalla squadra giallorossa. In caso di permanenza in A, la cifra di cessione si aggira intorno ai 12 milioni di euro. In caso di retrocessione, invece, il pacchetto costerebbe 8 milioni o giù di lì. I Tesoro sono imprenditori del settore siderurgico, ma non solo i loro interessi abbracciano altre sfere dell'universo industriale e del terzo settore. Dopo 18 anni, Lecce dovrebbe presto avere un altro proprietario. La squadra intanto scala la classifica di Serie A. Nell'ultimo posto ora è ferma al terz'ultimo, ma non bisogna sottovalutare lo sforzo fatto dalla squadra sotto la guida sapiente di Serse Cosmi, un tecnico che si è rimesso in discussione dopo le ultime amare esperienze. Lecce è stata una scommessa anche per lui, ha puntato su una squadra che forse gli farà vincere questa scommessa. E comunque vada, almeno avrà ridato dignità alla squadra, avrà restituito ai calciatori il gusto di lottare, alla tifoseria il piacere mai perso di tifare per i colori giallorossi. La squadra era di nuovo caduta in un precipizio scavato anche da una precisa situazione societaria. Uno scenario limpido, mai chiaro come questa volta. I semi raro che chiudono la porta e la cassaforte di famiglia alla società in autogestione. C'è poca differenza rispetto al biennio targato Luigi De Canio. Stavolta è una squadra costruita interamente con i prestiti, a parte i carrozzieri del vecchio Benassi e i calciatori che dovrebbero onorare il contratto fino alla scadenza. Ecco, Cosmi ha fatto reindossare la maglia giallorossa a questi calciatori, i quali inconsciamente si sentivano attori non protagonisti. Eppure da Lecce, da questo campionato, passa il futuro di molti protagonisti ai quali Cosmi ha restituito tutto ciò di cui un calciatore e una squadra ha bisogno. Il Lecce, targato di Francesco, è solo un brutto ricordo.